Buongiorno carissimi amici e bentrovati. Oggi in studio ci sono io, Martina Reolonne, e vi farò compagnia con la lettura di alcune delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Siamo a venerdì 14 maggio. Cominciamo con il Corriere delle Alpi, che dedica il titolo di apertura alla visita del generale Figliuolo in Veneto che si è svolta ieri. Andiamo subito a leggere come apre il Corriere delle Alpi. Coronavirus, la visita del commissario Figliuolo, ora via con le aziende. Il generale nei centri vaccinali del Veneto, qui si possono fare fino a 100.000 dosi al giorno. In giugno accelerazione decisiva, si legge appunto nel sommario. La mimetica da campagna, il passo svelto del veterano alpino. Maggio è un mese di transizione, giugno segnerà la svolta, anzi la spallata definitiva alla pandemia. Perché completeremo le vaccinazioni delle fasce d'età maggiore rischio e avveremo quelle aziendali, consentendo ai ceti produttivi di ripartire a pieno ritmo. È l'impegno di Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario dell'emergenza Covid, in visita nel Veneto tra Padova e Marghera. Questa è una regione virtuosa, ha detto, la prima negli over 80 con il 98% di copertura. C'è un approfondimento alle pagine 2 e 3. E sempre parlando di vaccinazioni, in questo caso siamo a Belluno. Agende rigide, solo chi sta male può spostare la seconda dose. Molte le richieste di spostamento della data della seconda dose in arrivo all'Ulss Dolomiti, ma le modifiche ci saranno solo per chi è malato. Andremo a leggere a brevissimo l'articolo a pagina 6. La foto di copertina è dedicata all'allerta animalista sul canile dell'Ulss. Condizioni pessime e arriva alla forestale. L'articolo è a pagina 19 di Gigi Sosso e lo leggeremo a breve. Ancora crisi in Valbelluna. Clienti e fornitori di ACC subito al tavolo di Zaia. A 48 ore di distanza dall'incontro tra il presidente del Veneto e i lavoratori sindacati di ACC, oggi si svolgerà il tavolo regionale con i maggiori clienti e fornitori della fabbrica zumellese. L'articolo è di Paola Dallanese. E ancora dalla prima un altro lancio. Piano per riconsacrare l'antica chiesetta dell'eremo dei Romiti. C'è un approfondimento di Gianluca De Rosa a pagina 30. E quindi ci fermiamo. A brevissimo andiamo a leggere la prima di Belluno che riguarda la questione ACC. Ma prima ci fermiamo un attimo sulla questione coronavirus e vaccini. Figliuolo loda il Veneto e suona la carica. A giugno le vaccinazioni nelle aziende. In generale questa regione è in grado di somministrare fino a 100.000 dosi al giorno. Zaia dice stiamo svuotando gli ospedali. L'articolo è di Filippo Tosato che ripercorre appunto la visita di Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell'emergenza Covid in visita in Veneto. Come dicevamo nell'emergenza pandemica ha ricordato il volontario Veneto sempre generoso, a profuso 215.000 giornate di lavoro uomo, circostanza che ha reso possibile traguardi altrimenti preclusi. L'adesione alla campagna di un buon numero di grandi e medie aziende consentirà a breve di attivare ulteriori 65 AB e questo nel territorio del Veneto. Andando avanti con la lettura si è parlato anche della terza dose, test sui primi immunizzati, quanto dura la copertura, la regione avvia uno studio anticorpale sui sanitari che hanno ricevuto il siero già a dicembre. Ricordiamo infatti che primi ad essere vaccinati sono stati appunto gli operatori della sanità, già tra dicembre e gennaio c'è questa ipotesi di terza dose. Leggiamo cosa dice questo articolo. Portare avanti uno studio sierologico su chi ha fatto la vaccinazione anti-Covid per non farsi trovare impreparati. Di questo ho parlato ieri mattina in Fiera Padova, a margine della visita del generale, il presidente del Veneto Luca Zaia. Il mio progetto è quello di andare a testare un target di popolazione e cioè quella che per prima ha ricevuto due dosi di vaccino, come ad esempio i sanitari. Fare i dosaggi anticorpali e vedere l'evoluzione nei mesi, se io prendo i primi 857 vaccinati del 27 dicembre 2020, so che è un target di persone che hanno già sei mesi di vaccino in corpo. Uno studio sierologico che potrebbe partire proprio dal Veneto e che andrebbe ad affrontare in maniera definitiva il tema della terza dose del vaccino. Partire dal Veneto per fare un'analisi seria anche a livello nazionale, ovviamente con l'appoggio del mondo scientifico, un'idea che ho sempre portato avanti, ha detto ancora il presidente del Veneto Luca Zaia, l'articolo è di Alice Ferretti. E poi c'è stato anche l'incontro tra il generale Figliuolo e i prefetti. Il primo incontro è stato con le persone che dirigono la macchina contro la pandemia e l'appello che è stato fatto appunto ai prefetti è di spiegare alla gente che AstraZeneca è sicuro ed efficace, si legge in questo titolone. Andiamo alla pagina dedicata a Belluno, già prima leggevamo il lancio in prima. Procede a ritmi serrati la campagna di immunizzazione in provincia, oltre a 31.000 bellunesi che hanno concluso il ciclo di profilassi, cioè che hanno ricevuto le due dosi. Agende ulse rigide, solo chi è malato potrà spostare la seconda dose. Sono molte le richieste di spostamento degli appuntamenti per la somministrazione della seconda dose che stanno arrivando in queste ore al Dipartimento di Prevenzione da parte degli over 50 che si stanno immunizzando in queste settimane, ma per la maggior parte di loro la data della seconda dose non sarà modificata. Il problema nasce dal fatto che per coloro che hanno 350 e 59 anni, che si stanno vaccinando adesso, la scadenza dei 42 giorni previsti per il richiamo dei sieri Pfizer e Moderna cadrà tra la metà e la fine di giugno, quindi in pieno periodo di vacanze e molti di quelli che si sono già immunizzati hanno già prenotato. Spostare quindi le date per treni e aerei alberghi diventa difficile, ma l'azienda sanitaria arriva chiara e definitiva con la sua risposta. aggiungono all'attenzione dell'azienda alcune richieste di spostamento dell'appuntamento della seconda dose. A tale proposito si segnala che nell'attuale organizzazione impegnativa della campagna vaccinale di massa è programmata l'assegnazione dell'appuntamento della seconda dose. Si legge appunto nell'articolo riproponendo lo slot della prima e ciò rende difficile la gestione di singole richieste di spostamento fatti salvi casi eccezionali dettati da ragioni sanitarie. Quindi si potrà cambiare gli appuntamenti soltanto per motivi di salute visto che una modifica comporterebbe non solo una difficoltà poi a gestire moltissimi appuntamenti ma creerebbe disagi anche per la campagna vaccinale che sta procedendo a buon ritmo in vista del proseguimento della immunità di gregge, dice appunto l'Ulss. Quindi gli appuntamenti per le seconde dosi si spostano solo nel caso di motivi di salute. Chiudiamo per un po' la pagina, la tematica coronavirus e andiamo a parlare di crisi aziendali e in particolare della CC. Siamo a pagina 15. Il titolo che apre riguarda appunto la regione che corre clienti e fornitori subito al tavolo per salvare la CC. Appuntamento a 48 ore dall'incontro con il presidente Zaia, l'incontro con i sindacati, sindacati e lavoratori cautamente ottimisti sul futuro. L'articolo è di Paola Dallanese. Appunto i lavoratori e i sindacati della CC hanno manifestato mercoledì sotto Palazzo Ferrofini e poi davanti alla sede della protezione civile di Marghera e oggi l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, assistita dall'unità di crisi rappresentata da Mattia Losego, incontrerà assieme al commissario straordinario Maurizio Castro i principali clienti e fornitori dell'azienda per una disamina puntuale dell'attuale situazione della fabbrica zumellese. Questo incontro, preannunciato da presidente Zaia, si inserisce coerentemente nell'attività di supporto che la regione con impegno costante ha garantito e continuerà a garantire. Si legge nella nota di ramata ieri da Palazzo Balbi. Al centro del vertice, che si svolgerà online, ci sarà il tentativo di trovare il modo per supportare l'attività della CC. Sul tavolo verranno messe quindi le proposte che arriveranno da fornitori e clienti nell'ottica di una condivisione dei percorsi e dei progetti. Saranno analizzati gli strumenti da mettere in campo per portare liquidità allo stabilimento di Melle, dalle dilazioni agli anticipi di pagamento dagli acconti alle garanzie. All'incontro, due potrebbero essere le levi principali su cui puntare. Da un lato, l'interesse di tutte le parti in causa a non far precipitare la CC verso la chiusura, considerando che i tempi dell'erogazione degli aiuti di Stato, tramite l'articolo 37 del decreto sostegni, saranno un po' lunghi. E dall'altro, la rassicurazione sul fatto che sia il ministro Giorgetti sia il presidente Luca Zaia saranno in grado di trovare presto una soluzione alla crisi a CC, accompagnandola verso un'acquisizione, forse di mercato, cioè tramite la gara d'asta, guidata dalla politica. L'esposizione in prima persona sul caso ACC del governatore Veneto fa ben sperare che il duoleghista, che controlla Palazzo Piacentini a Roma e Palazzo Balbia a Venezia, abbia una soluzione per chiudere bene la partita. I sindacati e i lavoratori di ACC si dicono cautamente ottimisti. Aspettiamo l'esito dell'incontro che si svolgerà oggi, ma sono sicuro che il presidente Luca Zaia, che su questa vicenda ha preso un impegno e riuscirà a trovare la quadra. Nelle prossime ore quindi sapremo e vi aggiorneremo anche noi dell'Amico del Popolo su quanto emergerà dall'incontro appunto di oggi e se ci saranno speranze per i lavoratori dell'ACC. Cambiamo argomento, andiamo a pagina 16. Case cantoniere, hotel e rifugio. La regione lancia aste per 92 milioni. Stiamo parlando del piano allineazioni che ha due pezzi pregiati in Cansiglio e Santo Svaldo e l'ex albergo San Marco. L'articolo è di Francesco Dalmas. Sull'alto piano del Cansiglio si privatizzeranno sia l'ex albergo San Marco che il rifugio Santo Svaldo. Lo ha deciso la giunta regionale inserendo i due beni fra i 122 immobili in vendita che dovrebbero rendere complessivamente 92 milioni di euro. In tempi come questi la regione è urgente bisogno di fare cassa per cui fa capire di non essere nelle condizioni di accogliere l'invito degli ambientalisti a conservare tutto pubblico il patrimonio ai margini della foresta della Serenissima Repubblica. Se l'ex hotel San Marco ha funzionato da Quirinale estivo nei soggioni degli ex Presidenti della Repubblica, Cossighe e Scalfaro, il rifugio Santo Svaldo al centro della Piana era l'avamposto dei Quirinalisti. Ed è stato nel tempo l'esercizio più frequentato del Alto Piano ed è chiuso da tre anni. In provincia di Belluno il patrimonio regionale messo in vendita è molto più consistente, non è solo quello del Cansiglio, comprende anche il complesso ex stabilimento troticultura di Belluno, la casa cantoniera a chilometro 58 della statale a Gordina, Livina Longo e la casa cantoniera sempre sulla regionale 203 in località Palù di Cencennighe. A Sedico in località Balgreva per 15.000 euro si può mettere le mani su un'altra cantoniera, questa volta di piccole dimensioni. Sempre nello stesso comune in località Lapissa per 25.000 euro prezzo base è disponibile un'altra casa cantoniera. L'elenco poi continua passando per Alleghe, Lamon, Anzu di Feltre, Auronzo di Cadore e questo appunto diciamo è un po' l'elenco esplicitato all'interno di questo articolo. Andiamo avanti, leggiamo la notizia che è legata, che si rifà alla foto di copertina. Siamo pagina 19, animali in cattive condizioni forestali al canile sanitario. L'associazione Leida fa scattare i controlli nella struttura pubblica di via Cappellari. L'US difende la sua gestione, ospiti accuditi e curati dal nostro veterinario, hanno detto l'articolo di Gigi Sosso. Parcheggiato da quattro anni nel canile sanitario, la storia del pastore tedesco Shadow ha fatto emergere la situazione più complessiva della struttura di via Cappellari gestita dall'ULS. La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente l'altro giorno ha chiamato i carabinieri forestali per fare i necessari accertamenti e capire se i quattro zampe vengono trattati in maniera adeguata e sono solo di passaggio come vorrebbero le caratteristiche di questi ricoveri. Per quello che ha visto, la referente bellunese di Leida, avvocato Marzia Ianes, ritiene che gli ospiti non stiano vivendo in maniera dignitosa e le gabbie siano in condizioni impresentabili, tra ruggine e la mancanza di un riparo, oltre che di una ciotola con un sorso d'acqua. Il responsabile del canile, che è il dottor Marcello Malacarne, preferisce non replicare e dedica e delega all'azienda la risposta. Gli operatori raccolgono ogni anno 360 e 180 cani vaganti, più dell'85% è identificabile tramite microchip. Quelli sprovvisti arrivano in canile e ne saranno dotati. Dopo un breve periodo vengono dati in affido temporaneo, che può diventare definitivo. I cani ora sono tre, un proprietario rintracciabile, un altro deceduto e il terzo potrebbe essere una persona con problematiche sociali. Due cani necessitano di un percorso di riabilitazione comportamentale e dell'assistenza di personale specializzato prima dell'affidamento. Il suo prologo di Ianes è nato dopo una segnalazione che riguarda Shadow, un pastore tedesco che soggiornava nel canile sanitario dal luglio del 2017. L'ho visto da lontano, dice la referente dell'associazione, mentre in primo piano avevo un altro esemplare molto più anziano e in condizioni inadeguate. Quindi questa è l'appello, la situazione segnalata appunto dall'associazione animalista. Andiamo avanti e ci spostiamo a pagina 23. Siamo nelle pagine dedicate al Feltrino, a Feltre. Frazioni, decoro e manutenzione. Aspre critica all'amministrazione. Opposizione, impressing su una zanettelli e salita ramponi, promossa da tutti la gestione invece dell'emergenza Covid. L'articolo è di Raffaele Scottini. Più attenzione alle frazioni, al decoro urbano e alla manutenzione del territorio. I consiglieri di minoranza hanno incalzato l'amministrazione in occasione della presentazione del bilancio consuntivo 2020, lunedì sera, in Consiglio Comunale. L'opposizione di centrodestra è stata critica anche nei confronti dell'operazione che ha portato ad entrare nel servizio associato dell'Unione Montana per le funzioni relative al commercio e alla gestione economica del personale. Sarebbero state più efficienti all'interno della macchina comunale, ha detto Franco De Bortoli e l'ho detto anche Nadia Forlin. Sono una perdita per l'ente. Poi l'attenzione si è spostata sulla rete stradale, su salita ramponi ci sono riversate tonnellate di sabbia, quest'ora potrebbe essere la stricata d'oro. Altra nota dolente è il ponte delle corde per la situazione di sicurezza in cui si trova. È a rischio e va sistemato. Alberto Vettoretto poi ha parlato dei titi della caserma Zanettelli della situazione e anche ha sollecitato a risolvere lo snodo critico dell'immissione sulla statale 50 da Zermen. Botta e risposta tra minoranza e maggioranza sulla mancata attenzione alle frazioni che è stata evidenziata da Agno Trento e di contro l'assessore lavori pubblici adizzata ha ribattuto snocciolando l'elenco di interventi fatti nelle frazioni e nei quartieri, precisando appunto tutto quello che è stato realizzato. Maggioranza e minoranza invece non ci sono state polemiche e critiche per quanto riguarda la gestione dell'emergenza covid. La struttura del comune è riuscita a far fronte a una situazione di criticità e l'emergenza sanitaria ha comportato una contrazione delle entrate tributarie del comune di quasi mezzo milione di euro direttamente o indirettamente legate al covid e ci sono state otto variazioni di bilancio e un prelevamento del fondo di riserva per operazioni complessive da 2 milioni 315 mila euro. Continuiamo e in questo caso ci spostiamo in Val Belluna per la notizia che è stata diffusa ieri dalla provincia, vandali a Villa Pat e deturpati gli affreschi, scritte e graffiti a vernice sulle facciate decorate, scatta la denuncia e il rustico al centro di un progetto di valorizzazione. L'articolo non è firmato, era un comunicato infatti della provincia. Vandalismo e Villa Pat che hanno colpito anche gli affreschi sono stati scoperti dai tecnici della provincia. Nei giorni scorsi un sopralluogo assedico ha fatto scoprire una serie di graffiti sulle pareti esterne del rustico annesso alla storica dimora nobile. La struttura, progettata dall'architetto Giuseppe Segusini poco dopo la metà dell'Ottocento, era in origine una stalla confienile, un edificio di pregio storico architettonico in stile neogotico con interessanti affreschi alle pareti perimetrali e proprio questi sono stati colpiti dai vandali. Abbiamo riscontrato scritte, graffiti e scarabocchi in vernice, spiega il consigliere provinciale con delega al patrimonio Walter Cibien, un fatto grave e inaccettabile che denota mancanza di senso civico. E poi ancora, la provincia ricorda che sul rustico di Villa Pat ha avviato da tempo un progetto di riqualificazione. Da mesi c'è un bando con l'intenzione di valorizzare il complesso in un'ottica di sinergia pubblico-privata, dice ancora Cibien. L'obiettivo è quello di restaurare il rustico e adattarlo a nuove funzionalità che possono essere di vario tipo, turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, didattiche e promozionali, appunto ha sottolineato. Leggiamo un'ultima notizia e poi passiamo al gazzettino e parliamo del piano per riconsacrare la chiesa dell'eremo dei Romiti, l'articolo è di Gianluca De Rosa. Barbara Castagnera che gestisce il rifugio si è già mossa con le diocesi di Beluno e Udine servono oltre 350.000 euro per rendere nuovamente fruibile l'antico edificio religioso. Ristrutturare, riconsacrare e infine riaprire. Una nuova vita è stata pensata per la chiesetta di San Giovanni Battista, parte integrante dell'eremo dei Romiti che, seppur annoverato tra i rifugi di montagna, va considerato come un luogo unico nel suo genere, ammitato al turistico e ricettivo e religioso. L'idea di riportare in vita la chiesetta arriva da Barbara Castagnera che attualmente gestisce l'eremo e che si è già attivata muovendo una fitta rete di contatti per raggiungere l'ambizioso obiettivo finale. L'eremo non è solo un rifugio, è soprattutto un luogo di culto ed io non mi sento un custode, piuttosto un gestore dice, scusate, piuttosto sono il custode, dice appunto Barbara. La chiesetta di San Giovanni Battista è stata già oggetto di un primo piano di ristrutturazione finanziato nel 2009 dal comune di Domeggio che ne detiene la proprietà. I lavori hanno interessato il tetto, la struttura si presenti in stato buono, le pareti sono integre, l'idea è quella principalmente di ripulire la struttura, rimetterla a nuovo e soprattutto riconsacrarla al fine di renderla fruibile. La Castagnera ha già interpellato la diocesi di Udine e quella di Belluno, mentre per quanto riguarda la parte esclusivamente economica del progetto è già stato interessato il gal alto bellunese. Come dicevamo passiamo ora al gazzettino, diamo un breve passaggio delle prime pagine e arriviamo alla pagina di Belluno, in questo caso pagina 25, che parla della questione vaccini come titolo di apertura. Vaccini in azienda stop al piano, si legge nel titolone. Il via alla prima dose da lunedì anche per i quarantenni rende superflua la disponibilità di procedere autonomamente. Bertone, Confindustria, pare riescano a smaltire più di quello che pensavano, al momento non serve l'intervento delle imprese, si legge nel titolo. Poi andremo a leggere anche l'articolo. Maestra contagia sei bambini di una scuola, una maestra senza vaccino e sei bambini contagiati, il caso è finito l'attenzione del Dipartimento di Prevenzione. Non è chiara la ragione per cui l'insegnante non si sia sottoposta all'immunizzazione che per la categoria dei docenti non è obbligatoria, viene ricordato nel titolo. La foto di copertina è dedicata a quello che leggevamo poco fa sul Corriere delle Alpi, ossia gli affreschi imbrattati con vernice sprain rustico annesso a Villa Pat di Sedico, cantieri stradali un'altra estate a Passo Duomo. Il sindaco di Cortina sdrammatizza lavori che aspettavamo da 30 anni, un tema di cui si è parlato anche già nei giorni scorsi. E ancora sempre dalla prima del gazzettino. Matrimonio incorrito civile, l'aumento in pandemia e c'è un articolo di Daniela Dedonà di cui andremo a leggere qualcosa a breve. A Cesio Maggiore il ponticello è pericolante, le famiglie restano isolate, stiamo parlando della vita dura per i residenti della località Busa di Soranzen, il comune di Cesio Maggiore. E ancora, sondaggio sull'ex stazione no a colate di cemento. La gran parte dei cittadini di Cortina è favorevole a riqualificare la zona della stazione, però non vuole appunto colate di cemento. E per quanto riguarda l'altra azienda in crisi in Valbelluna, stiamo parlando dell'idea standard, una casetta di legno ospita i lavoratori in mobilitazione che da martedì saranno in presidio permanente appunto davanti alla fabbrica. Leggiamo la notizia che riguarda il Covid. Vaccini in azienda, piano superato. Lunedì in tutto il Veneto si aprirà anche i quarantenni e le dose disponibili vengono sorbite dalla sanità pubblica. Quindi la presidente di Confindustria Bertone dice all'inizio c'era forte preoccupazione, ma ora pare riescano a smaltire molto più di quello che pensavano. La forte accelerazione delle ultime settimane ha permesso alle ULS venete di iniziare la categoria di cinquantenni e dall'undedì prossimo ci sarà spazio anche per i quarantenni. A questo punto la disponibilità del mondo dell'industria risulta superfora, saranno infatti sufficienti le forze messe già in campo. Infatti nei giorni scorsi era emersa l'ipotesi appunto che le aziende mettessero a disposizione i propri spazi per le vaccinazioni, era programmato anche un incontro infatti tra l'ULS e Confindustria, ma ora sembra che si riesca a smaltire più di quello che si pensava e così non è necessario far intervenire le singole aziende, ha ragionato appunto la Bertone. Ed è proprio alle aziende che si erano rese disponibili che la presidente Bertone ha inviato una lettera per aggiornarli sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi. Con riferimento al piano vaccinale nazionale stanno emergendo valutazioni e scelte organizzative diverse da quelle originariamente prospettate. A livello nazionale si punta infatti a individuare un numero ristretto di hub vaccinali o in siti aziendali o in luoghi pubblici gestiti direttamente dalla sanità pubblica e ritenuti più adeguate a gestire le complessità dei processi di conservazione, somministrazione e richiamo dei vaccini. E poi c'è quest'altra notizia di cui abbiamo letto prima il titolo. La maestra non è vaccinata, le elementari sei contagi, spero sia un caso isolato. Nuovo focolaio in una scuola della provincia, sette positività e un'intera classe in quarantena. Ci risiamo. A dispetto degli ultimi dati riguardanti gli istituti scolastici, lo spettro del covid è tornato tra i banchi di scuola. Un'insegnante di sostegno non vaccinata ha scoperto di essere positiva al coronavirus e poi da tamponi eseguiti ai suoi studenti delle elementari sono emersi altri sei casi. Non è chiaro se l'insegnante abbia rifiutato il vaccino per problemi di salute o per scelta personale. Nel caso dei dipendenti scolastici l'obbligo non esiste, tuttavia il vaccino avrebbe diminuito la possibilità di infettarsi e di contagiare. Lo confermo, spiega Sandro Cinqueti, direttore del Dipartimento di Prevenzione. Qualche giorno fa abbiamo preso in carico una classe elementare appartenente a una scuola della parte bassa della provincia. Tutto è partito dall'insegnante di sostegno. Una volta scoperta la positività della donna è scattato il protocollo e ci sono appunto sei bambini positivi e il tampone di uscita dalla quarantena è previsto negli ultimi giorni della prossima settimana. E c'è l'appello di Cinqueti e dell'Urse, ci auguriamo, che rimanga un fenomeno isolato, cioè che non si verifichino altri casi di questo tipo. Cambiamo argomento. In questo caso si parla dei cantieri turismo, riavvio tra cantieri e code andrà comunque meglio del 2020. Padrin, Presidente della provincia, lo scorso anno i disagi sono stati davvero al di là della normalità. Il sindaco di Cortina, Ghedina, dice serve un po' di pazienza, sono 30 anni che qui non si investe nella viabilità. All'orizzonte infatti c'è una nuova estate in cui, come quella passata, dominare sarà il turismo mordi e fuggi. Gli addetti ai lavori hanno pochi dubbi e il rischio per la provincia di Belluno è quello di dover fare i conti con cantieri e code infinite, un pericolo concreto a cui, per trovare rimedio, è meglio provvedere in anticipo. Ci vuole ancora un po' di pazienza, dice Gian Pietro Ghedina, sindaco di Cortina, ci sono certo dei ritardi, ma siccome sono 30 anni che in provincia non si investe più nella viabilità, dobbiamo essere contenti che adesso lo si faccia. Intanto però c'è una mappa dei cantieri parecchio corposa, sono tra i cantieri cui Anas sta lavorando a Longarone, la rotonda di Fortogna, la messa in sicurezza del tratto da Longarone a Castellavazzo, la già citata rettifica delle curve da Castellavazzo alla Galleria della Gardona. A far ancora gridare allo scandalo sono invece i lavori sull'autostrada nel tratto fra Vittorio Veneto e l'uscita di Pedoia. E l'articolo in questo caso è di Giovanni Santin. Andiamo avanti, leggiamo ancora qualche articolo. Per quanto riguarda le nozze in comune, sono senza crisi, in crescita anche in pandemia. Nessuna flessione col virus per i matrimoni a Palazzo Rosso, addirittura aumentati di un'unità nel 2020 rispetto al 2019. C'è un articolo di Daniela Dedonà. Voglia di dirsi sì per sempre. Se il Covid in città ha fatto crollare il numero di matrimoni celebrati davanti a un sacerdote, non così si può dire. Per l'unione livello civile nel 2020 sono state 42, le coppie che si sono sposate in comune e nel 2019 erano addirittura 1-41 coppie. Quindi a differenza del trend dei riti religiosi, che con il Covid è andato decisamente a picco, i matrimoni civili, le celebrazioni in comune sono aumentate. Questo riguarda ovviamente un articolo che riguarda il comune capoluogo, il comune di Belluno. A Cesio Maggiore, anche qui leggevamo prima il lancio. Isolati, costretti a camminare sul ponte, vietato per incasare, protesta degli abitanti di Busa di Soranzene, da mesi senza la passerella sul caurame. Distruzione bis a dicembre per il manufatto, ricostruito dopo Vaia. Ora è chiuso da 5 mesi. Vita dura per i residenti della località Busa di Soranzene, in comune di Cesio Maggiore, una decina di persone, delle quali metà abitano al di là del ponte, attualmente fuori uso. Abbiamo il diritto di poter raggiungere le nostre case in sicurezza, dicono, ma da 2018 purtroppo è tutta altra storia. Il nodo da contendere è il ponte sul caurame, che da Vaia in avanti ha subito tanti contraccolpi, e con tempo, come sottolineano gli abitanti, non ha ricevuto tutte le attenzioni del caso. Il nuovo ponte è più largo e più bello di prima, viene sottolineato appunto dai residenti, ma a ottobre dello stesso anno, la prima piena, neanche tanto piena, la scogliera da segni di cedimento, era staccionata su entrambi i lati, comincia a collassare. Da qui appunto la protesta degli abitanti, e nell'articolo, all'articolo è anche allegato una fotografia, che mostra il ponte vietato, metà dei dieci residenti di Labusa di Solanzin, non possono tornare alle loro case, senza passare sul ponte chiuso da mesi, quindi una situazione ovviamente non piacevole per i residenti. Idea standard, lavoratori in presidio permanente, davanti all'azienda, la casetta di legno, che da martedì ospiterà una delegazione di dipendenti, a sostegno della mobilitazione, l'articolo di Eleonora Scartonne. È stata installata la casetta in legno, che da martedì ospiterà il presidio permanente, e dei lavoratori dello stabilimento di idea standard di Tricchiana, per mantenere alta l'attenzione sull'avvertenza e raccogliere fondi da destinare a nuove, importanti manifestazioni. Sul piatto, infatti, altre giornate di sciopero, le date saranno rese note nei prossimi giorni. Dall'inizio dell'avvertenza, diversi mesi fa, si sono susseguiti una serie di incontri tra le organizzazioni sindacali e i vertici della multinazionale. I sindacati chiedono impegni seri e scritti sul futuro dello stabilimento e l'azienda tergiversa. Martedì e mercoledì sono previste due giornate di incontro con la proprietà, qui seguiranno le assemblee con i lavoratori per illustrare quanto è emerso e per programmare eventuali nuove iniziative. Il tempo a nostra disposizione finisce qui, vi aspettiamo puntuali domattina alle 8.30 sulle frequenze di Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto, grazie a tutti per l'ascolto, come sempre, un buon venerdì, un buon fine settimana e ci rivediamo prestissimo. Lunedì a lunedì. Grazie, buona giornata.